Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara, Penne. La regione Abruzzo investe sul presidio ospedaliero di Popoli per garantire il diritto alla salute dei cittadini e la piena operatività di una struttura che rimane punto di riferimento nella Val Pescara. Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori che serviranno a riqualificare i locali dell'ex medicina al primo piano, nel quale saranno destinati gli 11 posti di riabilitazione. L'importo complessivo dell'intervento è di 55 mila euro. Ieri nella struttura sanitaria si è svolto un sopralluogo dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del direttore generale dell'Asl di Pescara Antonio Caponetti e del direttore del dipartimento regionale della salute Claudio Damario per verificare l'andamento dei lavori. Dopo la visita l'assessore Veri ha incontrato anche i medici e gli infermieri del presidio. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.148 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti del Laboratorio di Riferimento Regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Ieri, rispetto a due giorni fa, si è registrato un aumento di 12 casi su un totale di 1.254 tamponi analizzati, con una percentuale di positività dei tamponi rispetto al totale di quelli analizzati dello 0,9%. Nella giornata dell'altro ieri, il 14 maggio, i positivi erano stati 9 su 1.310 tamponi analizzati, con una percentuale dello 0,7%. Ieri, i 205 pazienti, 10 in meno rispetto a due giorni fa, risultavano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 24 in provincia di L'Aquila, 74 in provincia di Chieti, 89 in provincia di Pescara e 18 in provincia di Teramo. 6, numero invariato rispetto all'altro ieri, erano invece in terapia intensiva, 1 in provincia di L'Aquila, 0 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 2 in quella di Teramo. Gli altri, 1.243, 18 in meno rispetto all'altro ieri, erano invece in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 31 in provincia di L'Aquila, 467 in quella di Chieti, 646 in provincia di Pescara e 99 nel Teramano. E nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 381 pazienti deceduti, due dei quali registrati ieri. I nuovi decessi, alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle 24 ore tra ieri e l'altro ieri, riguardano una 86enne di Pescara e una 82enne di Villa Vallelonga. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, perché si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse. 1.313 sono i pazienti dimessi o guariti, 38 in più rispetto a due giorni fa, di cui 226 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. E' 1.087 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test di seguito. I 12 casi di nuovi positivi di ieri si riferiscono 0 alla ASL di Avezzano Sulmonanacuila, 5 alla ASL Lanciano Vastottieti, 7 alla ASL di Pescara e 0 a quella di Teramo. La Giunta regionale ha deliberato un intervento urgente di ripascimento e manutenzione delle opere di difesa della costa abruzzese richiesto dai comuni per un totale di 570.000 euro. I comuni interessati, dopo quelli finanziati dalla delibera di febbraio scorso, sono Roseto degli Abruzzi, 110.000 euro, Pineto, 100.000, Silvi, 100.000, Pescara, 150.000 euro e San Salvo, 110.000. Continua l'impegno della regione nella ricerca di risorse affinché, dopo la grave crisi sanitaria che ha rallentato tutte le procedure, vengano date risposte al territorio e all'economia turistica, detto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega ai lavori pubblici, Umberto D'Annuntis. Si è concluso, con la privazione in giunta delle delibere necessarie, il percorso di riorganizzazione della struttura della Giunta regionale. La priorità è far partire concorsi per dirigenti, necessità impellente per il buon funzionamento della macchina amministrativa regionale, soprattutto in relazione ai tanti posti vacanti in dipartimenti cruciali, quali ad esempio Sanità e Agricoltura. Rimangono invece sospesi tirocini extracurricolari per i quali è richiesta la presenza sul posto di lavoro del tirocinante. Gli uffici regionali del Dipartimento Lavoro hanno emesso un avviso con cui viene confermata la linea stabilita nell'ordinanza numero 51 del 30 aprile del Presidente della Giunta regionale, successivamente puntualizzata nella circolare esplicativa del 4 maggio. Dalla riunione del coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni, fissata per il prossimo 19 maggio, si saprà se anche i tirocini in presenza potranno riprendere. Gli uffici regionali provvederanno ad emettere un nuovo avviso alla luce di quanto deciso nella riunione di martedì 19 maggio. Sono stati affidati e partiranno con procedura d'urgenza e lavori di recupero del Teatro Michetti di Pescara. Lunedì mattina sarà sottoscritto il verbale di consegna con il legale rappresentante della ditta di Napoli che si è giudicata all'appalto. La spesa complessiva, spiega l'assessore comunale Mascia, per questi due lotti è di 1.361.000 euro finanziata con fondi FAS. La prima parte dei lavori riguarderà la realizzazione della galleria in cemento armato, la demolizione della copertura esistente e la realizzazione di una nuova in legno lamellare e altre opere murarie. Con il secondo lotto si procederà al completamento delle scale interne, alla ristrutturazione completa dei camerini e del foyer e alla sistemazione degli infissi e alla realizzazione di tutti gli impianti con esclusione dei macchinari. Per la messa in funzione della struttura occorre un'ulteriore tranche di lavori per la realizzazione del palco e di altre opere di finitura come sanitari, lampade, tendaggio e poltrone per una spesa complessiva di un milione e mezzo di euro. Conclude l'assessore Mascia. Intanto dalla regione arriva la notizia dei bandi per imprese, lavoratori autonomi e partite IVA che saranno rimborsati se faranno richiesta parzialmente per l'acquisto di infrastrutture, di mezzi che siano collegati all'esercizio della loro attività professionale. Il bando lo potete trovare sul sito della regione Abruzzo. C'è da dire che il finanziamento copre parzialmente le spese sostenute. Nuova boccata d'ossigeno per la riviera sud di Pescara. Come si diceva, la regione Abruzzo ha stanziato altri 150.000 euro per il ripascimento con un intervento che sarà immediato perché le opere dovranno essere realizzate e rendi contate entro luglio 2020. Lo ha precisato il presidente del Consiglio regionale Sospiri. A Montesilvano ieri il sindaco De Martinis e l'assessore allo sport Pompei hanno effettuato un sopralluogo al campo sportivo Mastrangelo in Via Senna i cui lavori saranno completati oggi con il collaudo dell'impianto di irrigazione. Intanto, in un'ordinanza, il primo cittadino ha comunicato gli orari di apertura delle attività di ristorazione, bar e commercio che da lunedì saranno riaperti dalle 6 alle 24 e delle attività artigianali che invece, sempre da lunedì, saranno riaperte dalle 8 alle 21. Fermo restando, naturalmente, che c'è da rispettare tutte le norme di sicurezza previste per il coronavirus. Ricordiamo gli appuntamenti con la nostra emittente, quelli religiosi, alle 7 la Santa Messa con Papa Francesco, alle 12.03 quella con il nostro direttore Don Remo Teoditti e alle 19 la Santa Messa dal Santuario della Madonna della Divino Amore in Roma. La recita del Santo Rosario va in onda alle 11.30, alle 17.03 e alle 22.30. Ricordiamo poi i numeri dei centri operativi comunali di Pescara, 085-4283-400. ripetiamo 085-4283-400 e Montesilvano 800-94-2222. Ripetiamo 800-94-2222. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo coperto fino a metà pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio, coperto nelle prime ore della sera e nuvoloso in tarda serata con temperature da 18 a 24 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino, coperto dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio e coperto in serata con temperature da 19 a 25 gradi e 20 deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo coperto fino alle ore centrali, molto nuvoloso nel primo pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio e molto nuvoloso in serata con temperature da 18 a 22 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo sereno fino a metà mattino, coperto dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio e coperto in serata con temperature da 18 a 25 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto quasi calmo sia oggi che domani. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne, grazie e risentirci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.